ragazzi questo è un video di spiegazione perché molti iscritti mi si sono lamentati che non ricevono i feed perché youtube purtroppo da qualche tempo a questa parte non è più così preciso in questo servizio e per cui tanti video che invece vengono seguiti con interesse col fatto che magari non c'è l'avviso non c'è la notifica molti se li dimenticano oppure non passano a commentare poi mi chiedono ma quando esce il video il video esce giustamente poi non è che posso chiedere alla gente di entrare tutti i giorni a vedere se uno fa video allora che cosa si può fare si può tranquillamente andare una volta che voi siete iscritti al canale si può tranquillamente cliccare qui sia sul cellulare sia sia sullo smartphone sia sul sito cliccare sulla campanella riesce fuori questo pop up voi fleggate su inviami tutte le notifiche di questo canale e il discorso è chiuso quindi che significa che ogni qualvolta io poi non è che pubblico 10 video al giorno per cui non ve rompo manco troppo i coglioni e se va bene pubblico un video al giorno e quindi poi che succede che quando lo pubblico a chi ha attivato vedi che poi cambia la campanellina diventa con le due con questi due cazzetti qui qui e qui ecco per cui quando la campanella è accesa riceverete la notifica e potrete rimanere aggiornati su tutte le pubblicazioni vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro buona serata date a visitare la reaction che ho pubblicato questo pomeriggio che è veramente spassosa dai attenzione della campanella